c'è un bug di Tankench che praticamente la sua abilità lo fa saltare lo faceva saltare globale in qualsiasi punto del mondo la mappa a cooldown faceva da top a bot, da bot a mid gankava, tornava molto di recente, pochi giorni fa io voglio vedere il codice della Riot te lo giuro no c'era Kench che gankava a bot e poi ti fa di nuovo top con la spella e poi gankava a bot e poi c'era un exploit strano come facevano a fare sti exploit? è ancora up il glitch puoi mangiare gli alleati in tutta la mappa questo qui è OTP Tankench dai quindi non credo l'abbia preso per abusare il bug è così il challenger è un paesino di persone che si conoscono e quindi dicono ah questo qui è in coda poi andiamo ha paura di quello che sta per dire il Tankench allora che abbiamo noi? Cold Streak supporto hmm Jin Cold Streak mid laner cioè la vedi che la sono Q la vedi che la lusere Q la vedi che la lusere Q oh 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 I need two wins ah anche lui deve fare il challenger I live peacefully persone strane ma non lo so un po' strano si infatti cosa sono sti trattativi illegali cioè non è reportabile chiedo non perché sto aprendo un ticket alla radio ma sono c'è nessuna trattativa ma ha proposto ha proposto ha proposto è una proposta non è una trattativa è una proposta aperta uh è my bad ma perché Orianna l'ha fatto ci speravo tantissimo è my bad ma perché Orianna l'ha fatto è un po' strano è un po' strano è quindi è un po' strano è un po' strano è un po' strano è un po' strano Ah, Gin? dai però ma puoi missare la spell sul tiziano nel flash che è morto se lo vitti salve buon pomeriggio a tutti a presto Grazie a tutti Che sta succedendo? Cioè si fight e basta senza sosta È un Aram Mancano i portali per ora ma è un Aram Cioè stiamo combattendo Io e Nidale sto scemo di sesso da tre ore Vabbè manca di così Ma che cazzo? Mmm Mmm Stavo morendo letteralmente Mamma mia zero di culo lo sapevo E avevo il mio dito sul mio cu Cioè Vorrei solo flammarmi in questo momento Qualcuno potrebbe flammarmi Lo sapevo Eeeh Mamma mia mia nonna mia nonna Io ero muted Ma però ma non c'è bisogno ho trollato qua Tonto Mamma insultatemi Insultatemi Comunque anche se ho trollato Abbiamo stravinto la mid E quella che non ha tanto valore Ma sì Ma poi avevo il dito sulla cu Perché sape Mi ha pingato Rihanna Ma prima mi ha pingato Rihanna Già l'avevo pensato anch'io ovviamente no? Perché era abbastanza scontato Nidale di prova a stirarmi la spiarla Assurdo Possiamo andare avanti Possiamo Eeeh Ma la mia botta è che voleva forzare qua se stiamo così nel chill, non ho capito? Grazie per la visione! Sto trollando, sto trollando Perché? Perché sono deconcentrato, però siamo messi bene lo stesso, però basta trollare Si racchiati È una buona idea Fast Aspetta, prendo prima una control Guarda che ti vedo se non ti stai stiracchiando Sto intendo Due morti, patetica, però stavo giocando bene prima due morti Quindi ora ritorniamo in focus Let's go Cioè con la roba lì, con la E la potevo fare e non era morto comunque perché ci morivo per forza Qua non è il red, per superare la piccola forma, uffa Non era quella broken, però era comunque una forma Sai, io ho trovato il bug Forza Forza Non c'è No, non è valle altro Però temo che lì ho ghostato, però si c'è Grazie. Poteva spostarsi or? Anche se era senza air. Sì, infatti stavo realizzando. Ma se ci vai? Scusa, stavo starnutendo. Spero tu non mi abbia sentito. No. Allora. Item nice. L'unica minaccia di sto game è la Jinx. L'unica minaccia. Ho già preso una torre. Allora era condivisa in tre, quindi... Ok, allora... We believe. We believe. Volevo. Come. 995. No! Come. Come. good ma perchè non è sceso Jhin scendeva Jhin calava il C ci metteva l'air e stravincevamo ma può arrivare l'amendo i pezzi no niente vabbè ha preso torre oddio oddio non date R7 a Jhin andavo a flashare io ho sprecato il flash però è rimasto una di vita che palle sto game ma stiamo sbando un sacco di cose se ruotava Jhin era finito il game se ne giovavamo un po' più slow oppure andava bene perchè avevamo già preso una kill mentre prendevo torre mid però di basta doveva rotare lui il mio flash faceva schifo si! 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 Sono sicuro siamo la play Siamo messi male Siamo smezzati Lasciamo perdere Mi è stato la spell non ci credo Mi è stato la cue non sono riuscito a non capare la tizia Avrei preferito il buff dell'Erad ma vabbè Un bel vetto Un bel vetto Un bel vetto Dive coraggioso abbiamo preso Soraka E' quasi la torre Give you money if you stop playing video Dive coraggioso Non gli è piaciuto Non gli piace Non hanno contro tutti Cioè prima voleva intraddare Tom Kenji Successo un disastro è successo Ma la vision si può avere? Ha tipato bot? Ma perché è tiltata? Holy shit Che palle quando tiltano a casa? Diciamo che ci manca un po' danno Per realtà anche a loro Diciamo che ci manca un po' danno Diciamo che ci manca un po' danno Grazie a tutti. Ah, Jinx è troppo fed, non abbiamo una squadra... Cioè, la nostra team fed è pure forte, ma io sono così behind e sono inutili, veramente. No, se non aveva il flash era vinto il green qua. Caccato. No, se non aveva il flash era vinto. Vabbè, adesso Jinx è no flash. Tocca picchiolarla forte. Spanica. No, se non aveva il flash. 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 Capiamo? No, se non aveva il flash. 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 No, nessuno dei due. Ma lo dici per il capiamo? È solo Toscana, esatto. Ho questa feature. Viva Firenze. Guarda, ha tirato una testata sul muro. Sponky. Oh, mamma. Oh, mamma. Oh, mamma. Oh, mamma. Oh, mamma. Oh, mamma. 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 No, Gin, Adeto can't lose. Adeto can't lose with Baron. No, Gin, Adeto can't lose. Gigi. Ci dovremmo essere, ci dovremmo essere. Anzi vai. Ora non voglio tirarla, visto che ho detto Gigi, però... però... capiamo. Tirerò un sospiro di sollievo quando morirà la Ginx. Allora, bravo, bravo, bravo. Oh mamma. Guardala, guardala, bel vetting, bel vetting. Mamma che brutto game ho giocato, che game di merda che ho fatto. Meno male che avevano Silas, meno male che avevano Silas. Cioè loro Silas che era veramente un inter. Nitalia non faceva niente alla fine. Early game ha trollato pure lei. Cioè avevo pure giocato bene Early, ma poi... Ho run us down, ho run us down. Orianna flammava, però veramente stava giocando la sua stavora crista. Guarda quell'emote di bel vetting. Con tabellina. Eh, non la vedo perché da OBS, capito? Devo aprire Twitch, aspetta. Ah no, la vedo da lì, la vedo da lì. La vedo da lì, a posto, a posto, a posto. È carina. Che brutto game che ho giocato ragazzi. Holy shit, veramente, che schifo. Allora, dopo un game giocato così male... No. Lo so che cosa vuoi dire. No. 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 Ce ne siamo usciti in pari per ora. Ce ne siamo usciti. Dai, non tirare la corda che poi la perde e dici... No, ma dopo questa persa devo fare un'altra, eh? Cioè, abbiamo perso 11 LP andando in pari. Ale, ridendo e scherzando, sono le 5, io devo ancora pranzare. Cena alle 6. A questo punto sì. Cioè, se ho giocato male questa, la prossima la gioco bene, no? Ale. No? Si chiama ludopatia questa. Solo che invece di farle alle macchinette, tu le fai con gli LP. No, illy, illy. Non devi dirgli queste cose. Vincendo super gli LP che avevi prima. Beh, grazie, sono in pari ora. Cioè, è già ingiusto che io sia a 10 LP meno di quanto... Quello start, anzi 11 in realtà. 10 LP rubati dal sistema, questi sono. Il 90% dei giocatori di League smettero di giocare di modificio. Certo. Nice try, nice try. Allora, la verità è che posso fare un ultimo game. Cioè, che sia Smurf o main. Solo Smurf. Dritto solo Smurf. Ah. Va bene, va bene. Chicken, 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 chicken. Chicken. Uff. Dai, oggi ho fatto 6 games sul Mennacan, sono tanti. L'ho fatto inizio sullo Smurf, da 15 minuti penso, e 6 sul main, cioè. E poi ancora non abbiamo giocato un game di... Ma non sarei soddisfatto della giornata. Non cascherai la vostra trappola. No. Non cascherai la vostra trappola. Il settimo era quello che ti faceva andare in positivo. Oh no. Oh no. Rilogo? Sloggo questo? Alessandro? Cos'è si fa? Logout? No. No. No.